Mi hanno all'improvviso dirottato qui per seguire il caso di Leonardo Pieraccino Niversa. Ma no, diamoci di lei che è meglio. Io a Fornia godo di una certa reputazione, mi conoscono tutti. Ma sei testimone di Geova? No, e allora sali, su. Si, veda, Fornia è una città complessa. Fornia è una città strana. Dottor, ma non ho capito. Ma che niente niente mi volessi portare a lei? Lei ha una moglie a Ponte, un'amante a Roma. E non ti sdegnerebbe neanche una sorella con la cameriera dell'albergo di Fornia. Cioè, i cazzi miei stanno su Facebook? Mi aiuti, la prego, mi aiuti! Dottor, dottor, ma com'è buono? Ho una notizia bomba! Sì, sto tornando a Fornia. Ma come non lo sai? Hanno rapito Leonardo Pieraccione. Ma lei non può partire. E per quale motivo? Perché ancora non ha scoperto chi ha rapito Leonardo Pieraccione. Tengo a precisare che l'efficienza dei nostri uomini... Vorrei andare dal sindaco. Ah, è una ripicca. Sì, andare dal sindaco. Ma io... Cioè, quello pubblica del voto non andiamo tutti a puttare. Cioè, voi qua a Fornia dovete ancora andare a puttare? Dottor, la pionda! Il sindaco è impegnato, si sta preparando per Dubai. E basta, queste sono cazzate. Entriamo... Ma non dovevamo darci del lei? Io ti do del tu. Sei tu che mi dai del lei. E il sindaco dov'è? Scusa, ma non lo trovi perfetto? Perfetto per Coq. Io e te, insieme, facciamo un grande servizio. Perfetto per Coq. Perfetto per Coq. Perfetto per Coq. Il e vi città. Wow, un attivo perucetto per fare. È il punto mangiare il nostro percorso. Questa è un attivo alle prove che ci sono due. Allora doveva deve essere da seti del Luca. Grazie a tutti